buongiorno lei è io mi chiamo david antoni scalia e sono negoziante di pronto bici qui a corso fogazzaro e tre anni che sono in questo zona qui 10 anzi più di dieci anni che sono in attività e sto cambiando la cameraria non sei vicentino quindi sono vicentino acquisito i miei genitori sono tutti due italiani la mia mamma è di qui vicenza mio papà di milano però sono sono nato pochipsi che sarebbe nel stato di new york circa un'ora un'ora e mezza nord della città e ho vissuto lì fino a 29 anni e siccome ho la cittadinanza italiana ho detto posso fare facevo la vita inconcludente lì ho detto posso fare la vita inconcludente qui e si mangia meglio quindi praticamente è uno dei pochi casi in cui un nativo americano viene a vivere in italia beh sì tanti mi chiedono perché di solito sono italiani o o qualsiasi straniero che va nei stati uniti per fare la vita però avevo sempre la passione delle biciclette e qui ho visto che ci sono ancora la possibilità di produrre biciclette artigianalmente e anche c'è un mercato più del più per l'usanza della bici quotidiani quotidianamente invece solo negli stati uniti devi spuntare solo bici di recreazione o sport puro qui c'è persone proprio si muovono con le bici quindi tu non fai solamente la vendita o la riparazione come quella che stai facendo adesso di bici ti piace anche fare l'artigianato provi a fare qualcosina di tuo sì beh io ho disegnato le mio le mie biciclette che sarebbero gli utility bike ho fatto io ho disegnato per il semplice motivo di essere seduto sulla bici e avere le piedi piatti per terra senza compromettendo la la pedalata con la gamba estesa perché in giorno d'oggi se tu compri qualsiasi bici o ai piedi per terra però hai la gamba tutta piegata quando pedali o devi alzare la sella tantissimo per avere la giusta pedalata però devi saltare su e giù dalla bici perché non arrivi con i piedi con la mia bici puoi fare entrambi però non è una bici sportiva una bici proprio per uso giornali giornaliere diciamo di questo prodotto hai fatto anche un brevetto quindi sì l'ho brevettato in realtà l'ho brevettato per proteggere me stesso perché questo disegno è già stato brevettato un paio di anni prima da una ditta americana però diciamo io l'ho brevettato qui in italia così non posso nessuno può copiarmi e dopo fare causa contro me non è che io pretendo che nessuno mi copia perché tutto è copiato nel mondo però l'ho brevettato proprio per proteggere me stesso e questo modello che hai fatto tu riesce a venderlo bene in italia come sono le vendite beh io li vendo dal mio negozio così le persone io li vendo esclusivamente del mio negozio non ho fatto tanto pubblicità ho cercato di andare a fiere sono anche andati in danimarca però è un diverso discorso ho venduto negli ultimi tre anni un'ottantina di bici che non non sono tantissime perché 80 bici devi vendere in un mese o due mesi tutte qua a vicenza le hai vendute quindi nel vicentino sì più o meno un paio di un austriaco un danese l'hanno comprati e li portati via però sì più di tanto li ho venduti qui in vicenza e ti dico se riesco a venderli in vicenza riesco a venderli ovunque perché vicenza è duro ma perché dici che è difficile vendere a vicenza credi che i vicentini sono un po diffidenti nel tuo prodotto non diffidenti però beh forse non solo vicenza forse un problema italiana nel senso che c'è tanto furto delle biciclette e dopo la terza quarta bici che persone hanno rubato da loro non vogliono spendere più soldi per una bici buona le mie bici non sono economici costano un po di più perché li verniccio qui in italia li assemblo io uno a uno così per la stessa bici può darsi è una city bike a sei rapporti io li vendo per un certo prezzo forse li trovi per 80 100 euro in meno al supermercato in altri negozi quello perché dico che è difficile io l'ho disegnati pensando più per gli anziani sinceramente però ironicamente gli anziani non piacciono le mie bici perché è diverso perché loro sono stati impostati su questa classica impostazione per tanti anni quando provano qualcosa diverso se non si trovano bene la cosa che mi so preso e quanti ragazzi giovani piacciono le mie bici per proprio il motivo perché è diverso perché con la tua bici sostanzialmente hai più comodità nel nel pedalare è una posizione più rilassata sei più dritto con la schiena sei più alto con la testa invece di essere curvato in avanti sei più dritto è più più rilassante la bici sei vicenza più ti fa gli auguri per il proseguo della tua creazione che possa fermarsi sempre di più non solo nel territorio vicentino vuoi dirci qualcosa in merito spero che riesco a trovare qua qualche finanziamento qualche sì qualche finanziamento per metterlo in produzione a più più grosso volume perché ti ripeto io ho fatto con i miei soldi li ho fatto la bici ho visto che si vende non si vende velocemente però con un minimo di piano di marketing e con un minimo investimento credo che si potrebbe mettere in produzione di più volume tenendo anche i prezzi più bassi e anche forse con una bici più fornita con più accessori di qualità diciamo